Amici di Cerno e Web, questa sera ci troviamo in compagnia del maestro, possiamo dicerti così, Pio Bozza, nonché artefice di quelle che sono le luminarie che si trovano alle nostre spalle e stasera infatti c'è proprio l'inaugurazione a materno di queste luminarie. Allora, innanzitutto come vi è venuta questa idea? È un'idea che a me, io ogni, sono 4-5 anni che faccio il presepe sempre da me costruito da solo, l'impegno è la volontà che ci vuole. Poi ho deciso di fare qualche altra cosa più meglio, diciamo nel quartiere, di fare un albero di Natale con le bottiglie di plassi e mi sono messo l'impegno da me da maggio, ho fatto maggio, giugno, luglio, agosto e ho costruito questo albero, giustamente, poi l'albero viene la slitta, poi viene le regno, sempre in ferro, battuto è stato fatto, costruito questa cosa. E ci sono altre opere qui a materno, credete a voi? No, come opere no, solo questa qua è il primo anno che lo faccio, da me stesso. Sto da solo. Senti, abbiamo visto come appunto oggi c'è questa inaugurazione dell'ascensione in anticipo con quella poi dell'illuminare di Salerno Centro. Di come mai questo anticipo va? No, l'anticipo io pure il presepe l'ho anticipato sempre il 2 dopo i morti, sempre. Allora dopo i morti io l'ho fatto, non è perché l'ho fatto per De Luca, a me solo perché ogni anno che l'ho fatto per il presepe l'ho fatto dopo i morti. Il 3, il 4, ma non è niente per... Sì, perché ricordiamo anche che nel quartiere qui non vengono installate l'illuminare poi che... Sì, no, no, non viene niente per poi installare. Una curiosità, i materiali che hai utilizzato, abbiamo saputo che sono riciclabili, giusto? Sì, sono tutte bottiglie di plastica, è un albero di 4 metri e 20 per 2,50 di diametro e sono 1.250 bottiglie. Quanto è il costo che vi è venuto a fare? Il costo è più o meno, il prezzo viene a fare sui 500-600 euro solo di ferro, poi fra corrente e cose allora viene a costare molto, un po' alla volta si fa. Si fa, va bene, allora noi la ringraziamo e nulla, vi aspettiamo qui, comunque tanto penso che l'accensione sarà fino a tutti i giorni. Sì, tutto il periodo fino all'epifania sta acceso. Amici di Cerno e Web, invece adesso si tirano in compagnia del stacero del quartiere, nonché Don Marco, e siamo sempre qui all'accensione, oggi c'è un bel momento appunto di riunione proprio per questo evento, cosa ne pensa lei? Beh, penso che tutte queste iniziative siano comunque da promuovere e lodare perché in un quartiere che spesso sorge agli onori della cronaca per eventi negativi o di cose non proprio positive, vedere un'iniziativa che è tesa a rendere bello il quartiere, bella la realtà, credo che sia solamente da lodare e per questo ho accolto volentieri l'idea di benedire anche l'operato di questi nostri amici. Sappiamo che l'accensione durerà fino all'epifania, giusto? Sì, rimarrà per il periodo non datalizio e quindi avremo anche noi le nostre luci d'artista fatte in casa. È una bellissima iniziativa. Sì, sicuramente, quindi lodiamo l'ingegno, l'ingegno è un dono di Dio, quindi anche la Chiesa vuole lodare per queste persone che fanno qualcosa di buono per rendere più bella la nostra vita. Amici di Cerno e Web, adesso invece ci siamo in compagnia con alcuni amici del quartiere qui a Materno, siamo appunto all'accensione di quest'albero, cosa ne pensate voi? Una storia bellissima perché, vedete, la semplicità degli elementi corrisponde esattamente alla grandezza dei sentimenti e quindi, come posso dire, non c'è nessun messaggio sublimale particolare, c'è solamente la voglia di dire con le nostre mani diamo un segno per educare i nostri figli e questo mi fa ancora sentire ancora più orgoglioso di questa gente. E com'è nata l'idea? L'idea è nata dall'amico Pio e da gente che lavora sempre tutto l'anno per il quartiere, quindi mettere insieme delle bottiglie per riusarle mi sembra un messaggio grandissimo ecologico, un messaggio di economia, un messaggio che ha un contenuto educativo e ci fa iniziare il cammino di queste feste. La festa vuol dire riconciliazione, certo non saranno queste opere a poter competere con il resto della città, però queste cose fatte qui speriamo che anche altro le facciano con gli stessi sentimenti. E noi lo speriamo anche noi, vi ringraziamo, vi salutiamo e vi aspettiamo qui a Maggiù. Grazie a voi, grazie a voi.